Ciao tutti e bentornato e bentornata. Nella lezione precedente abbiamo iniziato con una introduzione a parlare dell'assemblaggio del computer. Continuiamo quindi questo duro lavoro. Iniziamo allora a lavorare alla grande costruendo il tuo bel computer. Partiamo dalla scheda madre e dal processore. Prima di iniziare tutta la descrizione dobbiamo fare una piccola permessa. È sempre cosa buona e corretta prendere visione dei libretti allegati al processore e alla scheda madre e comunque a qualsiasi dispositivo che acquisterai. Questo perché all'interno, oltre a prendere visione delle caratteristiche e del pezzo, potresti aver evidenziata qualche procedura particolare o dei dettagli o, ancora meglio, delle note di sicurezza nell'uso dello stesso. Normalmente, infatti, nei libretti allegati potrai evidenziare alcune specifiche azioni da compiere per la fase di installazione. Quindi, detto questo, prendi la tua bella scheda madre, toglila dalla plastica di protezione ed appoggiala sul tappetino della scrivania. In mancanza del tappetino potrai utilizzare o la gomma piuma presente all'interno della busta oppure il panno o, in assenza, anche la busta di protezione del componente stesso. Questo anche allo scopo di eliminare eventuali graffi che potresti arregare al legno o al tavolo della scrivania. Ora, accedendo alla scheda madre, individua la zona dove verrà alloggiato il processore, che nella fattispecie è definita con la sigla socket in inglese, in italiano zoccoletto. Questa è la zona di alloggiamento del processore. In ogni socket è presente un blocco meccanico per la CPU. Nella fattispecie, questa scheda madre presenta un blocco meccanico evidenziato da una levetta. Alternativa alla levetta, puoi trovare, anche se in maniera meno frequente, una vite di serraggio. In presenza di una vite, naturalmente, dovrai ruotarla per allentare la zona di serraggio per poter ubicare il processore stesso. In caso della levetta, dovrai semplicemente premerla verso il basso e poi verso l'esterno, lateralmente, in modo da sbloccare il suo sollevamento e poter ubicare successivamente la tua CPU. Ultima alternativa con cui potrai interfacciarti nelle scale matri sarà la presenza di un'aletta di metallo di serraggio che andrà a coprire il processore stesso. Ora prendi il processore dalla scatola, afferralo delicatamente con delle dita senza toccare né la pietinatura né la superficie dello stesso. guardano nella parte superiore o inferiore e noterai ad uno dei quattro spicoli una differenza sostanziale rispetto agli altri. Questa differenza rappresenterà proprio il riferimento che utilizzerai per guidare ed alloggiare la CPU all'interno dello zoccoletto. Sempre delicatamente appoggia la CPU sul socket, sullo zoccoletto, curando il riferimento appena evidenziato. A questo punto con l'indice applica una leggera pressione sullo stesso e vedrai, se tutto è posizionato in maniera opportuna, vedrai scivolare il processore in sede. In caso contrario sollevalo di nuovo, controlla se magari c'è qualche problema sulla pietinatura e ripeti la procedura senza forzare. Al termine potrai bloccare il processore allo zoccoletto, semplicemente ripetendo al contrario l'azione che hai fatto per rallentare la meccanica di sarraggio, o la vite, o la levetta, o l'aletta metallica. Fatto, guter. La CPU è collegata. Ora come ti senti? Il tuo primo passo di assemblatore l'hai compiuto. Bene, allora gasati un pochino perché hai appena compiuto l'azione più delicata di tutta la fase di assemblaggio del computer. Ora la procedura è abbastanza in discesa, anche se un altro piccolissimo scoglio lo incontrerai proprio adesso e andiamolo a vedere. Il collegamento del dissipatore sarà il tuo prossimo passo. Già sappiamo che il dissipatore è una ventola che permette di mantenere la temperatura del processore entro certi limiti. Lo scopo è quello di andare a appoggiare e bloccare questa ventola perfettamente sopra il processore e al termine bloccarla. Prima di fare questo però devi utilizzare la pasta termoconduttiva, ossia la pasta termoconduttiva è alloggiata dentro un tubetto tipo un dentifricio ma le cui dimensioni sono più piccole. Questa pasta ha un'elevata densità e un'elevata conducibilità termica che agevola la conduzione del calore dal processore alla parte metallica del dissipatore che grazie alla sua ventola poi allontanerà la temperatura più calda dal processore stesso mantenendo la sua temperatura entro certi parametri accettabili. Vediamo ora come si spalma questa pasta termoconduttiva. La parola d'ordine è che non devi esagerare né in un senso né nell'altro. Gli estremi infatti non vanno mai bene, troppo poca pasta aumenterebbe il rischio di innazzamenti di temperatura oltremoro inadeguati e nei casi estremi addirittura il rischio di danneggiamento del processore anche senza arrivare comunque alle condizioni estreme ma se lo stesso processore lavora a temperature molto elevate esso magari continuerà a funzionare degradando le sue prestazioni e con il tempo però potrà degenerare le sue caratteristiche tecniche. Infatti facciamo un esempio. Se tu hai una macchina, un motore e non controlli costantemente o saltuariamente i liquidi di raffreddamento e lasci il motore stesso lavorare a temperatura oltremodo inadeguata, cosa può accadere? Nella migliore delle ipotesi dopo molto tempo la guarnizione della testata andrà a farsi benedire quindi si usurerà con la naturale conseguenza che se non corri ai ripari nella sostituzione prima o poi fonderai il motore. Lo stesso paragone lo puoi applicare nella CPU con i due paletti? Mai poca pasta, mai troppa pasta. Infatti oltre a mettere poca pasta che potrebbe produrre un innalzamento di temperatura anche inserire troppa pasta termoconduttiva può produrre dei danneggiamenti. Se metti troppo materiale la pressione del dissipatore sopra la CPU permette alla pasta in surplus di sbordare quindi andare al di fuori della zona di contatto con il processore e potrebbe la stessa regare danni al processore o generando magari dei cortocircuiti nel caso di utilizzo di una pasta a base di componente metallica o addirittura il pieno isolamento tra processore e dissipatore quindi con incremento di temperatura durante il suo normale lavoro. Quindi cosa fare? L'equilibrio è la soluzione migliore ossia applicare un leggero strato omogeneo su tutta la superficie del processore evitando durante l'opera di spalmatura che rimangono delle zone non coperte e quindi che rimanga un leggero strato d'aria che tra l'altro è un cattivo conduttore di calore e questo fatto può produrre quindi un incremento di temperatura dello stesso e non far lavorare in maniera opportuna il dissipatore. Per quel che riguarda l'opera di spalmatura ci sono diverse scuole di pensiero ma la metodologia che ritengo più donna per la mia esperienza è utilizzare una piccola stecca che agevoli la spalmatura che a volte è accorreto anche dalla confezione oppure un pennellino a setole rigide, setole rigide vista la grande densità della pasta termoconduttiva. Questo in modo da rendere quanto più uniforme lo strato di pasta termoconduttiva applicata sul processore stesso. Evita quindi come prima ipotesi quello che ti potrebbe venire in mente ossia utilizzare il dito ricoperto magari di una pellicola trasparente per poter migliorare quindi l'opera di spalmatura. Questa ovviamente non è la condizione migliore per spalmare la pasta termoconduttiva. Bene quindi mettiamoci all'opera, prendi il tuo tubicino di pasta termoconduttiva e posiziona una piccola quantità lungo la superficie del processore stesso. Ora dovrai iniziare a spalmarla come abbiamo detto con il pennellino oppure con la stecchetta. Se ti rendi conto di averne messa troppo poca aggiungine piccole quantità alla volta. Se invece ti rendi conto di averne utilizzata troppa usa proprio gli strumenti a tua disposizione per rimuovere il surplus di pasta termica. Una volta che avrai spalmato la pasta dovrai alloggiare il dissipatore sopra la CPU. Prendi quindi il tuo dissipatore e posizionalo sopra la CPU. L'aggancio dello stesso quindi del dissipatore sulla CPU può avvenire in vario modo. Di norma vengono utilizzate delle viti di vario materiale da serrare direttamente sul circuito stampato della motherboard oppure potresti avere alternativamente un'aletta che attraversa il dissipatore stesso e andrà ad agganciare i suoi due estremi allo zoccoletto del processore. Qui in figura abbiamo un esempio di viti di serraggio, in questo caso di materiale di plastica, questo è il dissipatore capovolto, quindi non dovrai far altro che agganciare, quindi prima di tutto mettere il dissipatore al di sopra della CPU dopo aver posizionato bene la pasta termica e avvitare queste viti, la numero 1, 2, 3, 4 al rispettivo ancoraggio presente sulla scheda madre. Il serraggio delle viti dovrà avvenire in condizione incrociata, quindi magari dovrai serrare la vite numero 1, poi la vite numero 4, la vite numero 3 e la vite numero 2, questo per ottimizzare il serraggio dello stesso. L'alternativa come dicevamo potrebbe essere quella di un'aletta di serraggio che andrà ad essere agganciata allo zoccoletto del processore stesso. Per agganciare questa aletta ti conviene far uso almeno in uno dei due lati di un giravide ad intaglio, un primo lato lo potrai agganciare con il dito ma per l'altro ti servirà sicuramente l'uso di un giravide, questo perché la levetta funziona anche da molla che permette di agevolare la pressione del dissipatore sul processore stesso. Infatti come abbiamo detto nel momento in cui dovrai far uso del giravide ad intaglio dovrai far leva contro l'azione resistiva della molletta e soprattutto dovrai fare attenzione ad inserire bene la punta del giravide nella fessura guida dell'aletta di inserimento, questo perché se si dovesse sganciare il giravide durante la fase di serraggio ciò potrebbe portarti a far colpire con la punta del cacciavide un componente o la schiata madre danneggiandola in maniera anche definitiva. Subito dopo l'alloggiamento del dissipatore prendi lo spinotto che alimenta la ventola del dissipatore stesso ed aggancialo a questo spinotto etichettato con la sigla CPU Fan che ti permetterà di portare alimentazione al dissipatore stesso, fallo immediatamente altrimenti poi corri il rischio di dimenticare questa operazione. Per quel che riguarda l'inserimento di questo spinotto vai abbastanza tranquillo in quanto c'è una guida che ti permetterà di ridurre l'errore dell'inserimento dello stesso. Ora andiamo avanti con l'alloggiamento della memoria, la RAM. Questa operazione è straordinariamente facile. Oggi vengono utilizzati normalmente tipi di RAM definiti con la sigla DDR, DDR2, DDR3 con delle caratteristiche ben diverse. Ciò che distingue queste RAM già lo sai ovviamente sono le prestazioni e dato che hanno prestazioni diverse e non possono essere per così dire mischiate all'interno di una scheda madre anche se sembrano apparentemente identiche in realtà hanno una bella differenza. Infatti è stata inserita una tacca di riferimento inglese notch che permette di non solo individuare il tipo di memoria ma evitare di installare in maniera impropria una memoria RAM DDR al posto di una DDR2 e viceversa. La facilità di installazione sta nel fatto che su ogni slot, quindi su ogni spinotto di aggancio della RAM troverai delle guide laterali e la guida che abbiamo appena definito in modo tale che tu dovrai semplicemente inserire le RAM all'interno senza forzare più di tanto. Quindi individua la zona della RAM dove potrai inserire le tue RAM e innanzitutto evidenzia il tipo di memoria che dovrai inserire, cosa che suppongo tu abbia già fatto in fase di acquisto. Normalmente ogni scheda madre presenta la possibilità di poter comandare e alloggiare due tipi di RAM diverse ad esempio DDR, DDR2, DDR2 o DDR3. La cosa che devi ricordarti è che non ti sarà possibile in nessun modo poter installare RAM con tecnologie diverse contemporaneamente sulla stessa scheda madre o l'una o l'altra. Ora andiamo ad alloggiare la memoria RAM. Dopo aver individuato la zona di alloggiamento e aver capito quale tipo di RAM doveri installare nell'una o nell'altra zona dovrai semplicemente prendere il primo banco di memoria ed avvicinarlo allo slot etichettato con una serigrafia come numero 1 o numero 2, dim numero 1 o dim numero 2 e inserire lo stesso all'interno delle due guide fornite dallo slot stesso preventivamente avendo allentato queste due mollette. Nel momento in cui inserisci la RAM controlla la tacca di riferimento che ti permetterà di agevolare l'inserimento dello stesso. Ora, una volta appoggiata la RAM all'interno del suo slot premi delicatamente i due estremi fino ad udire uno scatto. Scatto che avverrà in maniera del tutto automatica grazie alla forzatura, come dicevo, automatica di queste due mollette che chiuderanno e serreranno definitivamente le tue memorie. Ripeti questa procedura per tutti i banchi di memoria che avrai acquistato. Come promesso penso di sarai reso conto della semplicità di questa installazione. Bene, ora custodisci la tua schiena madre e riposati perché continuiamo nella prossima lezione la descrizione dell'assemblaggio. Ora un grosso saluto come sempre, ciò a presto alla prossima da Carlo. Grazie a tutti.